Sudon che poi lo ha mandato in panchina. Paiola dall'angolo, tanti metri di spazio, non può non prendere quella tripla, non può non segnare quella tripla. Teodosic dai e vai per Paiola che arriva in fondo, guadagna il contatto della difesa. Due ci sono già, col più uno potrà fare tre. Per me Paiola è un grandissimo giocatore, uno che potrebbe fare dentro una squadra qualsiasi tipo di cosa. Diciamo che forse non gli indirizzano il rispetto che dovrebbe avere. Spurca il pallone Macchiura ma la palla resta nelle mani della Segafredo. Paiola, il tiro buttandosi indietro, lo segna Alessandro Paiola. Teodosic da tre punti, lunga la conclusione ma il rimbalzo gli torna in mano. Allora Paiola ci prova ancora da tre e per quei punti nel terzo periodo fate dieci per Alessandro Paiola. Ancora Paiola, questa volta contro Mascolo deve forzare la tripla ma questo secondo tempo Paiola vede il canestro largo come un lago.